Era esattamente un anno fa quando un giovane suprematista bianco australiano imbracciò le armi e fece strage alla moschea di Christchurch in diretta a Facebook. Sparò a 51 fedeli. La Nuova Zelanda sotto shock si scoprì vulnerabile ai mali del mondo di oggi, esattamente come gli altri paesi. Oggi, un anno dopo, il paese non potrà ricordare con una cerimonia collettiva i suoi morti a causa del coronavirus. Certamente controllare il contagio, specialmente in questa specie di eventi, è difficile. Condividiamo la decisione di annullare la commemorazione. I nostri fratelli uccisi in questo luogo sono comunque nei nostri pensieri. Come dimenticare d'altronde? La vita per la comunità musulmana neozelandese da quel 15 marzo non è più stata la stessa. Ma ora c'è un nemico invisibile da sconfiggere. 15 marzo significa proteggere le persone, sia che si tratti del tipo di violenza che abbiamo visto un anno fa, sia che si tratti di metterle al sicuro da un virus che sta attormentando il mondo. In Nuova Zelanda i casi confermati di coronavirus sono solo sei, ma il governo ha deciso di cancellare in via precauzionale la commemorazione che si sarebbe dovuta tenere in un'arena. Grazie a tutti! Grazie a tutti.